Sono Maria Antonietta, ho 62 anni e faccio l'edito. Sono Paolo Francis Quirini, sono pensionato. Io mi vaccino perché voglio che finisca questa tragedia. Ho già fatto la prima dose di vaccino con AstraZeneca. Io mi vaccino perché voglio stare in giro con la gente, con i miei amici, con la mia compagna, soprattutto con mia mamma. Per rispetto a quelle persone che non ci sono più, questa possibilità di scelta non l'hanno avuta. Fra qualche mese avrò 80 anni. Il vaccino, se non ora, quando? Vaccinatevi tutti.